Realtà Italia si riorganizza a Matera in vista delle prossime elezioni comunali e lo fa con una lista a sostegno del candidato sindaco Nicola Benedetto del Centro Democratico a dare l'annuncio il commissario regionale Alfredo Borzillo e il responsabile cittadino del partito Vito Carlucci. Sì, il gruppo dirigente dovrà occuparsi subito delle amministrative, noi abbiamo individuato un gruppo di giovani professionisti. Realtà Italia avanza in Basilicato dopo il grande risultato del 2013 delle regionali, anche a Matera avremo una nostra lista a sostegno dell'amico Benedetto. Il partito intende presentare una lista forte con l'apporto di giovani rispettando patti e l'autonomia del territorio ed evitando gli errori compiuti dal centro-sinistra a potenza nel 2014 tra gli obiettivi del programma. Noi abbiamo un gruppo dirigente, pronti professionisti, ingegneri, noi vogliamo che si rafforzi l'aspetto infrastrutturale intorno a Matera. Io vengo da Bari, il collegamento autostradale, il collegamento aeroportuale, speriamo anche che la pista Matei possa diventare riferimento. Consideriamo che la Basilicata è l'unica regione d'Italia a non avere l'aeroporto e quindi noi punteremo molto su questo anche alla luce della scadenza della Capitale Europea della Cultura.